Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Attaccante argentino dal carattere gioviale, ma dal rendimento discontinuo, Gustavo Abel Desotti viene ricordato per la sua espulsione nella finale del Mondiale del 90 contro la Germania. Nata a Montebuey nel 1964, dopo una lunga parentesi con il New and Sold Boys, con cui vince un campionato, viene acquistato dalla Lazio nel 1988. Il Galgo in bianco celeste non riesce a lasciare il segno e dopo una stagione nella quale segna appena tre reti in 29 presenze, passa alla Cremonese assieme ad altri due stranieri, Neffa e Limpar. Della sua esperienza in grigio rosso, resta ancora impresso il gol che vale il successo contro il Milan di Sacchi. Resta in Italia sino al 1994, anno in cui a Proda in Messico, vestendo le maglie di León e Atlas. De Sotti fa ritorno in Argentina nel 1997, firmando con Chilmes. Chiude la carriera l'anno successivo con il Defensor Sporting.